Gli operazionali sono stati montati sul zoccolo così si possono fare prove con diversi tipi di amplificatori operazionali. Facciamo ora qualche piccolo test. Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al corso di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre prima di iniziare un saluto a 4 nuovi sostenitori del programma Patreon. Grazie per il vostro supporto, apprezzatissimo e utilissimo. Salutiamo Gian Domenico C, Gian Filippo M, Bunker Q e Silvio B. Stasera vi voglio presentare un piccolo kit che abbiamo sviluppato insieme ai ragazzi del forum, che riguarda un stadio di alimentazione da utilizzare in ambito audio. Lo abbiamo chiamato Super Reg, perché effettivamente esegue una regolazione di tensione in maniera ineccepibile. Ossia bassissimo rumore, bassissima impedenza di uscita a tutte le frequenze, e quindi veramente utile negli stadi di preamplificazione, proprio per limitare al massimo problemi di qualsiasi tipo. Con il pretesto andremo a vedere quali sono i trucchi che vengono utilizzati su questo circuito, e quindi buona visione. Abbiamo un'alimentazione non regolata, fornita probabilmente da un trasformatore in ingresso e un raddrizzatore condensatori, che ci danno una V+, V- e ground. Abbiamo questo alimentatore per il preamplificatore, che deve fornire una tensione duale, più o meno 15V ad esempio rispetto al ground, di maniera che l'impedenza di uscita nei confronti della frequenza sia la più bassa possibile. Se questo è vero, si avrà una ottima timbrica sia per quello che riguarda il preamplificatore che per l'amplificatore, quindi una resa sonora perfetta. Per dimostrarlo, si può fare un test e accoppiare un segnale alternato in uscita, quindi forzando un transiente veloce, come ad esempio un'onda quadra a 1 kHz, con una tensione ad esempio di 20V picco picco, e vedere come l'uscita viene modificata. Se l'alimentatore è di buona qualità, in teoria questa forma d'onda sovrapposta, vista la bassa impedenza di uscita, praticamente non si vede neanche. Viceversa, se questo è di scarsa qualità, noteremo sull'uscita dei transenti che si ripercuotono direttamente sull'uscita. Per calcolare l'impedenza di uscita Z0 del nostro alimentatore SuperREG, ricorriamo a questo schema. Generatore di funzione, amplificatore, in grado di generare una frequenza F0 con ampiezza 20V picco picco, o sinusoidale o onda quadra. Andiamo a eseguire questo rapporto, indicato qui, dove V0 è la tensione ai capi di RL, che è il nostro carico nominale per l'alimentatore del preamplificatore, e Vs è la tensione ai capi di RS, che è una resistenza di bassissimo valore, 0,1 ohm, antiinduttiva. Poi abbiamo Vn, che è la tensione residua in assenza di segnale, quindi quello che andiamo a misurare. Eseguendo questo rapporto abbiamo indicazione di quanto vale Z0, e quindi siamo anche in grado di capire quanto è buono il nostro regolatore di tensione. Sono riportati qui i tre schemi a confronto. Lo schema classico con diodi zener e condensatori, quindi molto semplice per stabilizzare le tensioni a più 15, meno 15V. Uno schema che fa uso dei regolatori famosissimi 78-15V e 79-15V, per ottenere sempre una più e meno 15V. E infine lo schema che vedremo questa sera, che farà uso di operazionali a larga banda, bassissimo rumore, come in particolare l'NE5534 o il TL081 o anche il famoso UA741. Qui accanto sono riportati i valori dell'impedenza misurata ZA0 in ohm al variare della frequenza, con il metodo che abbiamo descritto prima. Quindi 5K, 10K, 20K, 40V. Nel caso di zener abbiamo un'impedenza di uscita che addirittura vale 2.2 ohm, poi all'aumentare della frequenza cala, ma è comunque un valore direi molto consistente. E quindi se arrivasse appunto un transiente, come abbiamo detto, purtroppo ce lo ritroveremo nella qualità audio. Con 78, 15, 79, 15 le cose vanno decisamente meglio. Vedete che siamo a 0.05 a 5 kHz, 0.12, 0.28, 0.5 a 40 kHz. Sicuramente molto meglio. Il Super Reg garantisce 0.001, quindi 1 milliohm su tutta la banda di frequenze. Quindi un'impedenza di uscita praticamente 0. Ed ecco svelato lo schema elettrico del nostro Super Reg. Il cuore del sistema è lo pump, che nel montaggio che vedremo dopo è l'NE5534. Abbiamo un'alimentazione di 24V, quindi un po' di filtro in ingresso, elettrolitico e condensatore in polipropilene. Sui due nodi dell'operazionale, da una parte abbiamo un partitore di tensione, che è ricavato poi dall'uscita, che sarà a 15V. Sull'altro nodo abbiamo uno zener. Quindi il circuito con lo pump farà in modo di polarizzare il nostro transistor in uscita per far sì di avere il cortocircuito virtuale tra questi due punti. Quindi lo pump si comporterà in modo per far sì che la tensione al pin2 e al pin3 siano equivalenti. Quindi se noi su questo piedino impostiamo una tensione con uno zener, che stabilizza a un valore di tensione noto, avremo che l'uscita sarà legata da questo partitore resistivo. Quindi scegliendo il valore di R2 ed R1 in maniera proporzionale, tenendo conto che su questo nodo avremo la stessa tensione dello zener, riusciremo a impostare il 15V. Impostiamo per R1 una resistenza da 5.6K, per R2 una resistenza da 10K, e per lo zener 5.6V. Allora possiamo dire che VZ, questo nodo, che poi è anche uguale a questo, essendo un partitore, questo nodo qui è uguale al rapporto di R1 fratto la somma di R1 più R2 per la tensione VO. Se è vera questa, possiamo ribaltarla, e quindi diremo che VO, tensione di uscita, è uguale a R1 più R2 diviso R1 per VZ. Sostituendo i valori, 5.6K, 10K, 5.6K, 5.6V, otteniamo una VO di 15.6V. Questo è lo schema, invece, per l'alimentazione negativa, che ovviamente è specchiato rispetto a questo, quindi è tutto con la testa all'ingiù. Infatti riconosciamo il positivo di alimentazione del nostro operazionale, è la massa. Il meno 24V in ingresso è la tensione negativa. Lo zener è ribaltato in questo modo, e al posto di un transistor NPN avremo un PNP, ma il concetto è esattamente identico a prima. Fissando i valori del partitore resistivo e dello zener, andremo a imporre la nostra tensione negativa con tutta la corrente che serve, gestita dal nostro PNP qui in uscita, e regolata dallo pump, perché, come sempre, lui farà di tutto per far sì di avere il cortocircuito virtuale fra questi due pin. Questo è lo schema elettrico del circuito stampato che abbiamo realizzato. È identico a prima con qualche componente aggiunto come condensatori di filtro, connettori e i due circuiti specchiati. In evidenziato abbiamo il primo montaggio. Riconosciamo come transistor NPN il BD137 con dissipatore, come transistor PNP il BD138, anche esso con lo stesso tipo di dissipatore. Utilizzando, come sempre, Easy EDA e i nostri amici cinesi JLCPCB, ecco il circuito stampato realizzato per questo Super Reg. Il circuito stampato risulta essere molto compatto, ma per esigenze di spazio molto stringenti abbiamo realizzato anche la versione per montaggio SMD. Dal connettore di ingresso riconosciamo le due sezioni positiva con prelievo della tensione più VCC e negativa meno VCC. Riconosciamo le shape per il montaggio dei transistor, per la gestione della corrente in uscita, e gli operazionali. E sul lato saldature, ovviamente, un bel piano di massa. Connettore P1 di ingresso, connettore P2 di uscita, dove preleviamo le tensioni regolate. La zona sinistra del circuito si occupa dell'alimentazione positiva a 15 Volt, la zona destra della negativa. Schema tutto sommato abbastanza speculare. U1 sono gli opamp NE5534P, i transistor NPNQ1 e PNPQ2, dissipatori. Ecco, notiamo questi due condensatori, C14 e C13, che sono in uscita. Questi, come vedete, sono molto grandi, devono essere di ottima qualità, per essere sicuri che poi la risposta dell'impedenza di uscita in frequenza non venga alterata appunto dalla capacità di uscita. Predisponiamo un montaggio fast. e qui abbiamo i componenti montati con un po' di libertà, perché essendo un prototipo abbiamo fatto diverse prove, quindi troviamo un montaggio a volte rovesciato, ad esempio anche per i condensatori, questo è il caso. Gli operazionali sono stati montati sul zoccolo, così si possono fare prove con diversi tipi di amplificatori operazionali. Facciamo ora qualche piccolo test. Forniremo un'alimentazione duale, quindi questa sezione dell'alimentatore, comincio da zero e vado a salire piano piano, limitiamo la corrente a 1,5 A, il negativo di questa prima sezione lo portiamo al positivo di questa seconda sezione e qua prendiamo il negativo. Quindi avremo un'alimentazione duale con la massa in comune sul filo nero, il negativo sul filo blu e il positivo sul filo rosso. Per le misure a banco utilizziamo il gufo reale Fluke 289 collegato direttamente all'uscita, in questo caso positiva, siamo a vuoto e facciamo una prima alimentazione per vedere che tutto sia stato montato regolarmente. Abilitiamo l'uscita, saliamo piano piano e teniamo sotto controllo l'uscita. Ricordiamoci che c'è uno zener di mezzo per cui fino a una certa tensione non succede nulla, è da 5,6 A e poi c'è comunque un partitore, andiamo su, ecco, vedete che l'uscita comincia a sbloccarsi, qua siamo a 12V, 2,2 A in ingresso, dobbiamo arrivare al punto di regolazione, quindi la tensione nominale di ingresso prevista minima è di 24V, eccola, la tensione di uscita 14.14, un po' bassa, andiamo su, questa tensione è non regolata, vedete che comunque se vado su la tensione si blocca a 14.82, sì, è un pelo bassa ma ok, quindi vedete sta regolando, ricordiamoci che qua siamo a vuoto. Ho posizionato il flucche sulla negativa, abilitiamo la tensione negativa direttamente 24V, in uscita meno 14.87, anche qua possiamo salire, in ingresso, quindi diamo una negativa, anche in questo caso quasi massima di meno 31V, la tensione in uscita si è inchiodata a meno 14.88, quindi abbiamo più e meno 14.88V a vuoto. Facciamo ora delle prove a carico, utilizzo il carico elettronico Siglent SDL1030, che può fornire 30A, in realtà noi ne tireremo molti di meno, questo carico elettronico lo avevo recensito nel video 499, tensione eletta a vuoto sulla negativa è 14.89, imposto una corrente di 100mA, ok, e abilitiamo il carico, corrente assorbita 0.099, quindi per una potenza di 1W e 4, la tensione si è mossa di pochissimo, 14.85. Aumentiamo la corrente, quindi andiamo a mezzo ampere, ad esempio, sì, ok, vedete sta ancora regolando, 14.5, questa volta la potenza erogata di 7.6W, impostiamo la corrente a 1A, 14.9W, e qua comincia a essere una potenza interessante, per il nostro alimentatore, impostiamo una corrente di 1.5A, 21W erogati, e questo si comincia a scaldarsi abbastanza velocemente, considerate che questo dissipatore non è che sia poi così grande, e questo si non è che sia più grande, per verificare la insensibilità del nostro alimentatore alle sollecitazioni esterne utilizzo questo circuito rupestre che è un po' un cannone per sparare una mosca infatti qua ho un IGBT che è un 18N120BD e quindi un IGBT addirittura da 1200V pilotato da un 555 che mi creerà una frequenza di qualche kHz regolabile a potenziometro e poi ovviamente ho un driver che è un UCC 3732 per pilotare adeguatamente l'accensione del nostro IGBT verifichiamo la forma d'onda in uscita dal nostro IGBT quindi piccola resistenza di carico quindi positivo alimentazione resistenza IGBT massa e vediamo con l'oscilloscopio cosa si vede fra il terminale di collettore e emettitore degli IGBT alimento con 12V e verifichiamo qual è la minima frequenza che riusciamo a gestire perché questa mi sembra un po' troppo elevata ecco qua sono all'estremo inferiore del potenziometro con questo circuitino 14 kHz ok potrebbe essere un buon disturbo da sovrapporre al nostro alimentatore per verificare effettivamente la capacità del super reg di regolare bene l'uscita con una bassa impedenza di uscita utilizziamo il circuitino con l'IGBT e il 555 come disturbatore collegato in questa maniera quindi alimentiamo con 24V fra 0 l'uscita negativa il carico quindi sarà regolato con una 15V e in sovrapposizione avremo un'onda quadra con una certa corrente impostata da questi GBT collegato in questa maniera con l'oscilloscopio osserveremo l'effetto sull'uscita il carico RL è una resistenza da 50 Ohm quindi sulla 15V farà scorrere una corrente nominale per super reg di 300 mA ho collegato il carico da 50 Ohm sul super reg il nostro disturbatore massa in comune con questo filo oscilloscopio direttamente posizionato sull'uscita utilizzo l'oscilloscopio tablet mixing batteria così non avremo problemi di ritorno di massa accendiamo il nostro disturbatore ecco sono accoppiato in alternata per cui questa è la tensione sovrapposta creata dagli GBT se collego il carico il super reg sta lavorando e in uscita abbiamo un segnale alternato con un picco di circa 400 mV l'uscilloscopio Se ripetessimo lo stesso test con una regolazione effettuata a Zener vedremmo un'impedenza di uscita decisamente superiore e quindi una perdita sulla regolazione importante rispetto al super reg. Ho disponibile sia il circuito stampato che i componenti per chi fosse interessato e poi vi lascio con un piccolo easter egg. Durante tutto il video non ho citato un'anomalia di questo circuito, se ve ne siete accorti potete scriverlo nei commenti. E con questo finisce il video, io vi ringrazio per averlo visto, come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su, io vi saluto, ciao e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!